Quando si incontra un personaggio nuovo, importante all'interno del mondo di One Piece, esiste una cosa che i fan hanno e che iniziano a lavorare non appena vedono questo personaggio. Questa cosa io la chiamo sindrome del reclutamento. In poche parole, quando molta gente vede un personaggio di One Piece interessante che effettivamente potrebbe star bene con tutto il mood che circonda Luffy e soprattutto la sua ciurma, molta gente inizia subito a posizionarlo tra i ranghi dei Mugiwara. In poche parole, oggi parliamo proprio di questo. Nei commenti da quando abbiamo visto Vegapunk la prima volta, la prima volta che abbiamo iniziato la saga di Egghead, ho visto tantissima gente scrivere che Vegapunk sarebbe un ottimo Mugiwara. Ora, non vi dico se sono d'accordo o no, in questo video parliamo attraverso dei pattern, attraverso alcune teorie, se effettivamente Vegapunk potrebbe far parte di Mugiwara. Questo è uno dei video più interessanti dell'ultimo mese secondo me in questo canale, quindi ragazzi vi invito a guardarlo tutto. Prima di cominciare, come al solito vi parlo di Redoc e soprattutto dell'offerta speciale che c'è per Natale. Questa offerta speciale dura solo fino al 25 di dicembre, infatti grazie a questa offerta qui potete creare il vostro eroe a quattro zampe personale. Infatti su Redoc trovate questa offerta esclusiva che passa dai 39,99 ai 19,99, ripeto solo per questo mese qui, ed è un prodotto speciale a tutti gli effetti perché comprando questo prodotto qui e allegando una foto del vostro animale domestico, in pochi giorni il nostro team unirà il tutto e vi farà avere il vostro animale domestico in una veste assolutamente nuova, nella veste di un vero e proprio eroe. Se avete un amico a cui piace tantissimo il proprio animale domestico e non sapete cosa le gradi e sapete che gli adora il mondo dei supereroi, ragazzi questo è il regalo apposta per Natale. Quindi ragazzi trovate il link in descrizione e inoltre vi ricordo anche che avete un ulteriore sconto del 10% se inserite il codice YouTube. Io vi lascio il link in descrizione, se volete vedere comunque ci sono tutte le varie specifiche del prodotto, io direi che possiamo cominciare subito a parlare dell'ingresso d'inciurma di Vegapunk. Questo video lo dividerò in quattro parti ben distinte, la prima parte in assoluto me la prenderò un po' per parlare di questo pattern, perché nonostante in questo canale ne abbiamo parlato tantissime volte, addirittura il primissimo video di questo canale parla di questo pattern qui, magari alcuni di voi non hanno mai sentito parlare o comunque vogliono una rinfrescata. Nella seconda parte parleremo di Lilith, quindi Punk 02, un clone di Vegapunk, non Vegapunk, il corpo vero. Nella terza parte parleremo appunto del corpo vero di Vegapunk, quello che assomiglia un po' a Einstein per intenderci. E poi nella quarta parte invece parleremo di quello che penso io, quindi opinioni personali. Iniziamo subito parlando del pattern, ok? Questo pattern qui è un pattern che effettivamente è stato ripetuto più volte nell'opera, è stato confermato tra l'altro con l'entrata in ciurma di Jinbe, e vedrebbe dei collegamenti tra i Mugiwara che sono già entrati in ciurma con alcuni futuri Mugiwara. In poche parole questo pattern serve per fare alcune previsioni riguardanti i prossimi membri della ciurma. Quando vado a fare un esempio di questo pattern prendo assolutamente i primi ingressi per ogni tipo di mare. Di fatti in questo pattern qui individuiamo tre tipi diversi di mare, tre parti diversi per l'avventura di Luffy. Individuiamo quindi l'est blu, la prima parte della Grand Line, quindi il paradiso, e poi il nuovo mondo. Prendiamo quindi, come ho detto, per esempio il primo ingresso in ciurma per ogni parte di mare. Quindi stiamo parlando di Zoro, Chopper e Jinbe. Questi tre personaggi infatti hanno delle caratteristiche in comune molto molto evidenti. Di fatti la prima apparizione di tutte e tre li vede legati a una corda, tutti e tre sono considerati dei mostri in un modo o nell'altro, tutti e tre hanno qualcosa che è stato salvato da Luffy durante la saga dedicata a loro, eccetera, eccetera, eccetera. Come potete immaginare questo pattern si ripete anche per gli altri membri. Per esempio in questo video parleremo delle entrate in ciurma successive al primo membro entrato per ogni parte di mare. Sto parlando per esempio del pattern legato a Robin e Nami e la parte di pattern che invece vede Frankie e Usopp. Partiamo con la parte di pattern che è legata a Nami e Robin. Quindi in poche parole in questa parte di video parliamo solo ed esclusivamente di Lilith. Personaggio che già sembrano essere molto amato nella community. Molta gente è impazzita quando l'ha vista e devo dire che effettivamente una reazione del genere l'ho vista quando abbiamo visto per la prima volta Yamato circa due anni fa. Ora non ricordo quanto tempo fa, però mi sembra due anni e mezzo fa. Fan art, un sacco di roba, teorie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andiamo ad analizzare il pattern che collega Nico Robin con Nami. La prima cosa in assoluto che bisogna dire è la loro prima apparizione. Infatti sia per Nami che Nico Robin la loro prima apparizione avviene in modo particolare. Infatti entrambe quando appaiono per la prima volta di fronte a Luffy, però in questo caso potremmo calcolare di fronte a tutti i Mugiwara, si trovano in un piano più alto rispetto a quella del nostro capitano. Nel caso di Robin, se non erro, era proprio a Orange Town e nel caso di Nico Robin invece si trovava sulla Going Merry quando si è intrufolata la primissima volta. Per quanto riguarda Lilith, tecnicamente lei non ha ancora incontrato Luffy, perché Luffy si è separato subito dai Mugiwara all'inizio della saga. Però la sua prima apparizione nei confronti non del nostro capitano, ma nei confronti degli altri Mugiwara, quindi di tutto il gruppo di Zoro per intenderci, è effettivamente molto simile. Lilith infatti compare sopra il suo robot in una posizione tecnicamente elevata rispetto agli altri Mugiwara. In più Lilith, perché l'ho voluta citare subito? Perché lei effettivamente condivide una cosa in particolare con Nami e Robin, il fatto che sono ragazze. Perché questa parte di pattern qui non può non tenere conto che effettivamente i due membri che sono entrati come secondi, diciamo così, nella loro parte di mare, sono entrambe le uniche due ragazze della ciurma. Quindi Lilith potrebbe starci benissimo in questo pattern qui. Ci sono altre cose effettivamente da andare a chiarire, che se effettivamente questa teoria dovesse rivelarsi vera, dovranno essere chiarite andando avanti con la saga di Egghead. Intanto sia Nico Robin che Nami appartenevano all'inizio a una ciurma avversaria, o comunque un gruppo avversario. Per quanto riguarda Lilith potremmo considerare anche questa cosa, perché Lilith tecnicamente fa parte del governo mondiale, lo dice lei stessa quando dice ai Mugiwara di non tirare nessun sospiro di sollievo. Sia Nami che Robin hanno avuto a un certo momento della loro vita il cappello di paglia in testa, cosa che effettivamente sembra essere importante, Lilith però come abbiamo detto non ha ancora incontrato il capitano. E come ultima cosa, Nico Robin e Nami sono tra i pochissimi personaggi in One Piece che hanno chiesto di entrare in sciurma con Luffy. Nami in realtà quasi costretto Luffy nella sua entrata in sciurma, praticamente voleva essere subito una sua collaboratrice. Di solito quello che vediamo nell'opera in realtà è Luffy che chiede a chiunque di entrare in sciurma, nel loro caso specifico invece è il contrario. Come ho detto però, Lilith non ha ancora incontrato il capitano, quindi questa parte di pattern secondo me non possiamo calcolarla in generale. Questa è la parte di Lilith, ci sono altri punti nel pattern, tipo che entrambe le ragazze che abbiamo adesso in sciurma, a un certo punto della storia sono uscita dalla sciurma per poi ritornare in grande stile. Sto parlando di Nami quando abbandona Mugiwara proprio all'inizio della storia per tornare da Arlong e invece nel caso di Nico Robin stiamo parlando di tutta la saga di Annie's Lobby. Queste sono cose che tecnicamente dovremmo vedere molto più avanti, ok? Perché nel caso di Nico Robin addirittura passa una saga, praticamente c'è tutta una saga dedicata a questa cosa e anche tutta una saga dedicata alla questione Nami. Ovviamente molti di voi staranno pensando a un altro personaggio che effettivamente potrebbe legarsi a questa teoria e stiamo parlando di Yamato. Per quanto riguarda però la preferenza tra Yamato e Lilith ne parlerò alla fine del video quando darò le mie opinioni personali. Ora passiamo subito alla prossima parte, ovvero quella del Dr. Vegapunk. Parlo del corpo principale. Il Dr. Vegapunk ha chiesto a Luffy di andarsene, ok? Quindi probabilmente per un certo periodo di viaggio potrebbe essere anche un compagno, tra virgolette, per i Mugiwara. Sto parlando di quel tipo di compagno che effettivamente non è un Mugiwara, però passa tanto tempo sulla nave. Come per esempio è successo per Lowe durante quasi tutta la saga degli Imperatori. Quando si parla però di Vegapunk, del vero corpo di Vegapunk, io non posso metterlo nello stesso pentolone in cui ho messo Lilith. Quindi non posso parlare di lui in relazione con Nami e Nico Robin. Quando si parla di Vegapunk io lo metterei di più in relazione con Usopp e Frenkie. Anche Usopp e Frenkie hanno delle cose in comune. Intanto loro due sono i tecnici della ciurma. Effettivamente lo sono. Insieme collaborano tantissimo. Abbiamo visto anche la femmina di Onigashima. L'abbiamo visto un sacco di volte. Comunque loro due sono anche legati molto alla nave. Usopp era più legato alla Going Merry ovviamente, mentre Frenkie è legatissimo alla Town of the Sun. E in questo concetto qui, quindi il concetto dell'essere tecnici, Vegapunk rientra benissimo. Sia Usopp che Frenkie all'inizio sembravano essere dei villain. La primissima apparizione di Usopp, che è un'apparizione che in realtà dura letteralmente qualche pagina, qualche vignetta, Usopp effettivamente si presenta come capitano di una temibile ciurma di pirati, cosa che scopriamo poi non essere vera subito. Per quanto riguarda Frenkie, la situazione invece è un po' più greve, perché effettivamente Frenkie ha una vera e propria gang. La prima apparizione di Vegapunk invece, non so se potremmo esattamente collegarla così, perché come abbiamo detto effettivamente, se dovessimo calcolare Lilith come prima apparizione di Vegapunk, lei si dichiara come membro del governo mondiale, ok? Mentre invece, quando stiamo parlando del corpo principale, il Vegapunk vero, la sua prima apparizione è un'apparizione molto più tranquilla, soprattutto per quanto riguarda i confronti di Luffy, perché Vegapunk ha già sentito parlare di Luffy non solo dalle notizie, ma perché conosce suo padre. La parte ciccione effettivamente di questo pattern qui che lega Frenkie e Usopp è più in materia tecnica. Ci sono altre piccole parti che però ovviamente possono anche non essere confermate dal terzo ingresso, ovvero il fatto che sia Usopp che Frenkie hanno un naso particolare, ok? Infatti il naso di Frenkie è letteralmente un bottone, mentre per quanto riguarda Usopp non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Per quanto riguarda invece Vegapunk non è che abbia un naso così particolare, diciamo che questo personaggio ha un sacco di cose che sono particolari, il naso non è tra questo, ok? Diciamo che la lingua sicuramente è la cosa che si nota un po' di più, e poi la sua testa se effettivamente avesse ancora il cervello al suo posto, ok? Però come ho detto, mica tutte le parti del pattern devono essere rispettate al 100%. Ora, passiamo alle mie opinioni personali. Per quanto riguarda Lilith, lo sapete, io sono ancora team Yamato, ciò che mi fa sperare ancora nel rientro di questo personaggio è una cosa in particolare. L'ultima parte del pattern che ho citato. Difatti, come ho detto, tecnicamente a un certo punto della storia, i membri femmina del gruppo, quindi della ciurma dei Mugiwara, una certa, escono dalla ciurma e poi ritornano in grande stile. Se dovessimo calcolare la fine di Onigashima, è come se Yamato fosse entrato, usando il pronome che vuole lui, in ciurma, ma poi abbia deciso all'ultimo di non entrare più. Quindi, tecnicamente, le speranze non sono ancora morte. Ora, potete assolutamente scrivermi fanboy con un wall of text sotto nei commenti, perché un po' è anche vero. Anche perché sono legato a questa teoria, perché, ripeto, è stato il primissimo video del canale, video che mi cringia ora se lo vedo, però effettivamente non posso sottrarmi alle idee che ho sempre espresso in questi due anni. Quindi Lilith io la escluderei. Secondo me Lilith sarà un po' il fiammifero di questa saga, perché è la parte malvagia, tra virgolette, di Vegapunk. Avrà un altro ruolo, a mio parere. Per quanto riguarda, invece, il corpo principale, secondo me un ingresso in ciurma del genere è una roba troppo leggendaria, ok? Siamo passati sopra all'ingresso di Jimbe, che comunque è un uomo pesce. Anche lui è stato citato veramente all'inizio dell'opera. Prima di vedere Arlong addirittura, e poi ce lo siamo ritrovati in ciurma. Per quanto riguarda Vegapunk, invece, è una cosa un po' diversa. Certo, anche lui è stato citato spesso, però è veramente un personaggio leggendario. È veramente un personaggio OP. Un personaggio che sa tutto, sa quasi tutto, ha un cervello che è grande come un'isola. Poi, certo, voi mi direte, magari a fine saga questo cervello farà una brutta fine. Ci sono un sacco di teorie. Verrà distrutto, verrà rimpicciolito, lo spedirà sulla luna un sacco. Però, secondo me, è un personaggio veramente ingombrante. In più, solitamente, questi personaggi qui, che effettivamente gran parte della loro vita l'hanno già passata, ora, non mi tirate fuori Brook come esempio, però comunque, un personaggio che effettivamente si è realizzato. Non so quanti sogni abbia. Il suo sogno, da quello che abbiamo capito, è quello di collegare tutto il mondo al suo cervello. Mi sembra una roba che non c'entra molto con tutti gli altri sogni dei Mugiwara, con, diciamo, le caratteristiche di questa ciurma, soprattutto per quanto riguarda Luffy. Io non ce lo vedrei bene in ciurma. Lo vedrei meglio, come abbiamo detto prima, come un passeggero temporaneo, cosa che in One Piece, comunque, non è niente di strano. Ho fatto l'esempio prima di Low, potremmo anche citare Kinemon, Momo, Vivi, tra l'altro, un sacco di personaggi, ma veramente, veramente, un sacco. Quindi, no, per me, Vegapunk e nessuno dei suoi corpi entrerà in ciurma. Quindi, ragazzi, ora, fatemi sapere con un bel commento che cosa ne pensate dell'ingresso in ciurma di Vegapunk, se dovesse succedere, sareste felici, se questo scenario dovesse rivelarsi verità, una certa, fatemelo sapere con un commento. Io vi scuso se oggi non mi sono fatto vedere, quindi siamo tornati un po' ai vecchi tempi, in realtà, dopo una settimana, però ho avuto dei problemi tecnici. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi, perché aiuta tantissimo il canale. Io sono Marra, mi raccomando, fate i bravi. Noi ci vediamo presto, ragazzi. Ciao a tutti.